Sono ingenti i danni arrecati dall'incendio che è divampato nelle prime ore del mattino nella sede del CONI. Il cortocircuito è partito da un condizionatore, le fiamme hanno avuto origine dal climatizzatore, si sono propagate anche a causa del materiale cartaceo presente sulla scrivania. Ingenti i danni alla stanza coinvolta, ai computer e ai muri al tetto. A spegnere l'incendio i vigili del fuoco che hanno accertato comunque l'origine accidentale del fatto.